In commissione la maggioranza si è astenuta, in aula domani qual sarà l'atteggiamento, qual è l'idea, cosa farete? Stiamo valutando, l'idea è sempre la stessa, noi riteniamo che non sia un argomento urgente, quindi che si può tranquillamente rinviare dopo l'estate, vediamo cosa accadrà e decideremo. Quindi concretamente non si è capito ancora, perché ci sono penso diverse modalità per rinviarlo. Sì, assolutamente sì, la metodologia ancora non l'abbiamo decisa, non sappiamo qual è, però ritengo... Però potrebbe essere uno degli strumenti, ribadisco, riteniamo che sia assolutamente oggi non urgente trattare il MES, c'è tempo e modo. E le posso fare anche un flash sulla Sant'Anche?